Ops a tutti, miei cari obsini e obsina Come state? Come state? Spero molto bene Oggi sono qui solo per voi per registrare questo nuovo video Molto molto semplice in realtà Che però volevo provare a fare Dove cambiavo trigger Cambiavo trigger e in base al colore del trigger Cambiavo anche le luci dietro Quindi ho deciso di partire col bianco come colore neutro E poi da lì faremo tutto l'arcobaleno, dai Spero vi possa piacere Non lo so, fatemelo sapere, va bene? Fatemi sapere se i trigger vi sono piaciuti Quelli che sto per fare Quindi senza dire altro Tanto parlerò durante il video Indossate un paio di cubi o auricolari Auricolari, auricolari Stendetevi sul vostro letto E cercate di dormire, va bene? Dormite, 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 dormite Io comincio a cambiare il video Allora per il colore bianco Ho deciso di prendere questo cuscinetto Che non facevo da un po' Allora per il colore Allora per il colore In questo periodo mi sto appassionando molto al vast ASMR Però non so se sarei in grado di fare un video Allora per il colore Allora per il colore Ancora un pochino Ancora un pochino E poi lo possiamo Anzi no Può ripartire le transition Tra un colore e l'altro Vediamo un po' come vengono Allora per il colore Allora per il colore Allora per il colore Scusate, dai proviamo a cambiare i trigger, così, eccoci qua, siamo passati al rosso, 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 rosso. Mamma mia, ma quanto è rilassante, cioè io sbadiglio ogni due per tre. Scusate. Scusate. Ho cercato di vestirmi scuro in modo che voi vi potevate concentrare sui colori di tre. Scusate. Mamma mia, scusate. Faccio. Grazie a tutti. Passiamo al prossimo colore. Eccoci qua. L'arancione. Ho preso una scatolina dove introtteniamo i biscottini per il mio cane. Eccoci qua. Eccoci qua. Quanto è bello, mamma mia. Sto sperando che lo vediate perché se lo faccio in basso non entro nella videocamera. Comunque vorrei che venisse un video molto casalingo, molto rilassante ma nel senso di senza troppe cose speciali. Tranquillo. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Scusate se faccio la faccia così serio. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. cambiamo vai col giallo le salviette non sapevo cosa dire ho preso questo pacchetto di salviette che era l'unico giallo io adoro il rumore plasticoso delle cose della confezione di plastica cioè io mi scioglierei letteralmente a sentire questo suono a sentire a sentire Spero solo che con tutte queste transition la macchinetta non si sfochi perché sarebbe la fine. La macchinetta non si sfochi perché sarebbe la fine. La macchinetta non si sfochi perché sarebbe la fine. La macchinetta non si sfochi perché sarebbe la fine. La fine del Pride giugno cercherò di farlo un pochino meglio anche se questo qua mi sembra abbastanza buono come video, no? Podem lo sapere. La fine del Pride giugno cercherò di farlo. E' un po' questo video perché io monto tutta l'attrezzatura la sera e vi faccio due o tre prove per vedere come viene. Avevo in mente di fare un video solo che veniva malissimo sempre con questo cambio luce e quindi poi ho optato per fare questo. Devo stare attento che entri nell'inquadratura. Ciao! Ara, bro! Ciao! Ciao! Facciamo un'altra transition, passiamo dal verde al blu, blu 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 Eccoci qua con l'acqua, quale trigger più blu c'è dell'acqua? Fatemi sapere se tutto questo campiolucci vi piace C'è un'acqua, 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 un'acqua Che figo che era sto suono Comunque se ve lo stai stai chiedendo, tutti i trigger che sto facendo sono qua Dio, spero via ti dia Ops! 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 non so più cosa dire per intrattenermi perciò chiudete gli occhi e ascoltate solo il suono adesso transition passiamo dal blu al viola ed eccoci qua ritrovati con l'ultimo trigger di oggi con il colore viola 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 viola静 ma che poi non so come mai ma io trovo che il colore viola sia il migliore tra tutti che stia come video non lo so rimbalza perfettamente sullo sfondo forse pure troppo mi piace proprio come viene queste spugnette sono fantastiche qui Chiudì occhi, chiudì occhi, chiudì occhi, chiudì occhi, chiudì occhi. Anche perché è arrivato il momento di posarla, quindi non farò un'altra transition, restiamo con il colore viola che è tanto 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 bello e diciamo cucù, cucù. Adesso tocca solo, solo, solo a te. Iscriviti al canale, se sei nuovo o nuova, per entrare a far parte della Ups Community. Se siete dei maschietti, diventare i miei Upsini, mentre se siete delle più minucce, diventare le mie Upsine. E poi mi raccomando, lascia un mi piace qua sotto, se il video ti è piaciuto, va bene? Altra cosa che vorrei che tu, che stai guardando questo video, facessi è di commentare qua sotto come ti è sembrato il video, se ti è piaciuto oppure no. Quindi, questo video ormai è giunto al termine. Io adesso ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sullo schermo il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video vi vogliate. So che c'è qualcuno che è ancora sveglio, ma mi raccomando, vai a letto e dormi, dormi, dormi. Quindi, buonanotte. 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 Grazie a tutti